Prendono il via anche nella provincia BAT i congressi territoriali del Partito Democratico che eleggeranno non solo i nuovi segretari cittadini e i nuovi direttivi, ma anche i delegati chiamati a comporre l'Assemblea Provinciale e dalle cui indicazioni verrà fuori il nome del prossimo segretario della BAT da scegliersi tra il candidato canosino Pasquale Di Fazio e quello Andriise, Lorenzo Marchiorossi. Il primo congresso si è celebrato questo weekend a Trani presso l'Auditorium San Luigi. Nessuna conta dei voti per eleggere il nuovo segretario cittadino, l'ingegnere Ferdinando Riccio, 70 anni, unico candidato grazie all'accordo trovato tra le diverse anime del partito. Riccio succede a Nicola Amoruso, alla guida del PD tranese dall'ottobre del 2013, dichiaratosi particolarmente soddisfatto per il salto di qualità compiuto dal partito in questi anni, divenuto prima forza politica della città e principale sostenitore dell'azione amministrativa del sindaco Bottaro. Formalizzata anche l'elezione del nuovo direttivo composto da 35 elementi. All'Assemblea Provinciale il PD tranese dovrebbe invece esprimere 14 nomi, 5 dell'area Emiliano, 5 dell'area Orlando e 4 dell'area Renzi. Del direttivo cittadino e dell'Assemblea Provinciale in quota Renzi farà parte la consigliere comunale Patrizia Cormio, lo scorso luglio dichiaratasi indipendente ed ora tornata alla casa madre con incarichi di rilievo negli organi di partito. Ad affiancare Riccio nel suo nuovo incarico dovrebbero esserci due vice segretari, Paco Avantario per l'area Renziana e Vincenzo Desimola in quota Emiliano. A loro il compito di rilanciare l'azione del principale partito della coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco Bottaro, spesso vittima di personalismi e fratture interne che non hanno mancato di influire negativamente sul percorso amministrativo.